ciao ragazzi eccoci finalmente è uscito league of legends mobile e andiamo a fare una partita non ho mai giocato a league of legends quindi non so molto pratico che posso prendere shinsky ma quindi lasciate un piccolo mi piace al video iscrivetevi al canale e vediamo che succede belle listi skin ho giocato la mia partita con airi è andata bene non vediamo vediamo che succede oh belli quindi ragazzi io non sono un giocatore di league of legends quindi non aspettavo non avete aspettative molto alte da me e lo volevo provare mi sembra carino dai ok si dice andiamo a sparare no non so che sia non so che si dice andiamo a sparare dai uccidilo si grande non so che si dice andiamo a sparare Non ho più vita. No, mi devo ritirare per forza. Per adesso stiamo vincendo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Porco il mondo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bella bello comunque dai è abbastanza bello come gioco andiamo ora appuntamento bersaglio vabbè ma questo penso che vediamo 9 9 1 qui non ci dà il ponteggio solamente il più forte in vp penso penso vabbè comunque ragazzi questo è stato il primo episodio magari se vi piace possiamo fare degli altri io sono stato Nicodem e ci vediamo al prossimo ciao ciao